shall we be bella a tutti ragazzi per il mio canale per il mio canale e per il mio canale No, 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 no. Grazie. 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 Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo in unissimo video e giocheremo a Roblox. Oggi siamo in un video di Roblox e vediamo se gioca qualcuno. Aspetta, provo un attimo. Come avviare un video su OBS. No OBS, i miei setti. In Italia da video in India c'è una condizione per esempio, infatti che nel C920 la webcam che utilizzo io, ciao ragazzi. La terza con la voce ad esempio dei vostri compagni di gioco. Già a sera, tra poco è uscito Andairo, scusate, quando è tutto a posto, non posso sicuramente. C'è un po' di ritardo, ci vediamo subito dopo quando è tutto a posto. Ed eccoci qua, tutto a posto, abbiamo adesso a disposizione un'area nera completamente libera per fare qualsiasi cosa. Potremmo metterci in gioco, potremmo metterci altre persone che stanno parlando con noi, oppure anche semplicemente come faremo adesso, una schermata browser così per farvi vedere come funziona. Allora, andiamo di nuovo col tasto destro su Regi, aggiungi e in questo caso facciamo Cattura, la finestra. Un'altra cosa fondamentale da sapere, OBS riesce a riconoscere tutto quello che attualmente è attutivo sul testo. Il browser in questo momento è sotto in miniatura e non va bene, quindi andiamo prima ad aprire il browser. Lasciamolo pure su questa paglia di OpenDropCarterSoftware e torniamo su OBS. A questo punto chiamiamolo come vogliamo, il browser, diamogli ok. E come vedete, automaticamente OBS riconosce che cosa c'è di aperto in questo momento sul nostro browser. In questo momento abbiamo Firefox, quindi gli diamo ok. Lasciamo anche Cattura del pulsore se vogliamo, perché si veda effettivamente il movimento del nostro mouse e gli diamo gli ok. Ok, poi andiamo a portare in background questa nostra immagine con la storia di Sanos. My cat, no, 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 no. Dunque, una cosa, non farò live. Capito? Non farò live. Non, non, non voglio uscire, OBS. Vediamo. Torniamo su Roblox. Allora, 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 io sono da PC. Ho il end, end, end. No. Io non sto giocando. C'è qualcosa di che ho creato, no? Allora, games. Allora, no, non vai nemmeno. Ci sono molti game. Roblox, allora, non ti hanno a Friance. frianza naso l'avvio proprio tra il club spray andiamo su su game questo mio io i dei carcos vediamo allora io direi di provare i pigi pigi alfa capter 11 poi direi di andare con picchi poti sfogliosi pigi 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 lei oddio non sono tanto sicura di questo è scelta forse abbiamo scelto una cosa un po toccante no no io direi di uscire da qui perchè mi sto caccando sotto no ma non fa paura pigi pigi non fa paura facciamo il parkour no ma non fa paura pigi pigi non fa paura da cammino male che non faceva paura vai apri te oh tanto tanto dobbiamo parkourare ok siamo forte ragazzi no ma io nei parkour sono un mostro sono livello 0 come vedete respawno me lo voglio fare così no devo andare di la ok ok non ci credo devo andare più in qua quindi questi sono i 3 tasti che mi servono per vedere il percorso così quattro tasti no un po di più di là dovevo andare ah vai ah dai da computer è difficile anche abbastanza ma perchè no no ora me lo spieghi guarda fatto spieghi belli i parkour sul roblox sono fantastici oh vado a fare oh mio dio cosa cosa spazio cosa oh mio dio raga ehm quanta gente eh vado a fare what what questa è brava oddio cosa ha fatto perchè non ho premuto spazio raga io ho premuto spazio l'avete visto tutti l'avete visto tutti che ho premuto spazio eh non preme non preme spazio cioè devo fare raga è difficilissimo se non so giocare a fortnite capito non so giocare a fortnite ma quello ma è ovvio infatti per questo ci gioco per no raga non mi fa non so non riesco a fare quel salto non riesco a fare quel salto raga che poi quanto è lungo oddio quanto è lungo vabbè quelli che ci sono abituati ai parkour di roblox ma anch'io che scelgo cose difficili ma vuoi quanto è lungo cioè cosa di merla 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 accanto 13 non fa raga non fa 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 non ah il segreto è quello fanno sotto di fila ma quelli che al telefono sono molto affantaggiati ma molto ragazzi molto affatto ma cosa ho fatto ragazzi no non l'ho spiegato ma bravo ma sono bravo ma rega meglio parkour li so fare sono nato per fare parkour certo fargli al contrario un poco brutto fargli al contrario perchè non salta guarda che se io ci riesco sono mostro a fare questo livello devo stare un po' più destra non salta rega non salta non salta non salta non so se senti i tasti ora è lento a saltare ma poi non so manco se mi vedete è verde vabbè qua al contrario così mi vedete però se io metto dentro mi fa tanto bene ok forse così mi vedete vediamo se mi vedete ok mi vedete anche abbastanza bene mi vedete mi vedete non mi vedete allora io roblox è un bel gioco però mai quanto perchè mi ha zoomato no ma no ma perchè mi ha zoomato perchè mi ha zoomato perchè mi ha zoomato dai ma perchè zoomi 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 come ora si fa a non zoomare più ok così si zooma così non si zooma ok così va bene la A la A è il primo parkour di Roblox infatti è il primo che sta andando malissimo vediamo di fare qualche altro video game perchè vediamo di farne qualche altro vediamo vediamo di farne qualcun altro video ciao ragazzi volevo avvisarvi che sto registrando un video su Roblox uscirà forse dopo domani o domani sul mio canale da come vedete qua sto registrando il video con tutti i programmi quello sono io quindi siamo su Roblox non perdetevi forse domani o dopo domani sul mio canale youtube vediamo vediamo stessi qualche cosa horror però non come quella perchè allora qualche altro giorno non faceva spaventare ma sta qua ragazzi quella di piggy cacodos cacodos cioè quella di piggy c'è proprio non mi ricordo più dov'era vero raga quella che avevo fatto ieri insieme ai miei amici perchè sono entrati dragon ball z no fra no no dragon ball z retta oh dio oh dio subito fin al stand quello era jiren quello è black goku no black goku oddio ma che è Allora, vediamo come si gioca al drag Vediamo, fino al stand Speriamo di non essere Jiren Perché siamo Jiren Devo capire un attimo Oddio, ma chi siamo? Finito 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 Quest'ora Dragombone? Quest'ora Dragombone? Quest'ora Dragombone? Eccoci Ok, finito Come dovrei combattere? Hoho Super Saiyan Vediamo come video? Ero Ta Da Ero Ma dovrei fare? Ero 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 Oh! 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 Oh no! Stupido se hai armato! Cosa cazza? Ma come sta? Oddio vengola! 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 Oh my god è morto! Ragazzi! Ciao Kiki! Kiki! Sono io Goku! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Dov'è un... here? No! Oh my god! Vengola! 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 What a fuck! Let me go Oh, snack! Oh, Gio! Non fa buonare! Mi rompe, piano! E' vero con D? No, se volo, in qualche modo. No, se volo! 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 Menta, te lo prendi l'antra, non lo so Ciao Ma schiavitosi Va bene Per la morte di mare Non vinto Non lo so Lo prendiamo su qua Oh my god Ragazzi Cioè Io sono imponato proprio nel posto più bello Ma Non trovo ci fossi anche i punks robot Io sono qua Ma che bello Ma bella vita Ragazzi fantastico Ma che bello gioco Ma che bello gioco Cioè a questo punto Invece del titanic Per fare il mossa 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 Vincitività Eh vabbè Ma no Exit Ma ma quasi finito Sto facendo un video Un soldo Un soldo Allora questo è il nostro bagno Un calcio 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 Grazie per la visione! Bella vita! Ma qua? Raga ma che bel hotel! Non è che è un escape? Ma escape da cosa? Dal bagno? No! Ovviamente dobbiamo aiutare questo bambino! Questo bellino carino! Vediamo cosa ci dice! Bambino! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info